Dopo aver guardato la città da fuori e aver immaginato come poteva essere la città del futuro, adesso andiamo a vedere che cosa succede dentro la città. Quindi non più le mura, non più le strade, semplicemente, ma la gente che vive in città. Come viva la città Art and the City, 1913-2014, a Villa Olmo al Via, la terza grande mostra firmata dall'assessore alla cultura del comune di Como Luigi Cavadini. Ultima tappa di un progetto triennale che vede protagonista la città. Oggi l'inaugurazione e l'esposizione sarà aperta ufficialmente da domani, al 29 novembre, e sarà corredata da un fitto programma di attività collaterali. Le sale della dimora neoclassica ospitano oltre 50 opere che, con diversi media, supporti e linguaggi espressivi, alle più tradizionali tele si alternano fotografie e installazioni, indagano i modi del vivere quotidiano attraverso lo sguardo di artisti italiani e internazionali. Una panoramica lunga un secolo, nella quale lo spazio della città è costituito dalle relazioni, dal lavoro, dall'identità, dal commercio, dai servizi. Tra i nomi in mostra, Radice, De Chirico, Andy Warhol, Pistoletto, Liechtenstein, Kia, Cattelan, non un percorso cronologico né una suddivisione per artisti, ma un itinerario costituito da diverse sezioni. La prima sala, ad esempio, ospita i trasporti. La mia idea dell'arte è sempre stata che tutta l'arte è contemporanea, cioè io non faccio un discorso temporale, infatti la mostra non è allestita in maniera cronologica, ma è allestita secondo le opere. Secondo le opere il dialogo che le opere creano tra di loro è con lo spazio. Per me un'opera di Andy Warhol è uguale a un'opera di un artista giovane, se è della stessa qualità. Quindi io costruisco una mostra sulla qualità delle opere e dei discorsi che queste opere portano con loro. A Villa Olmo sono ospitate opere provenienti da collezioni private, raramente esposte al pubblico fino ad ora, altre invece sono state prestate da importanti musei. Come viva la città, che prende il titolo da una nota canzone di Giorgio Gaber del 1969, nel pomeriggio si è presentata alle autorità cittadine e agli ospiti su invito, collezionisti, artisti, prestatori, mentre in serata, dalle 21 alle 24, apertura straordinaria gratuita al pubblico. Nella giornata inaugurale dell'ultima tappa di un excursus iniziato due anni fa con la città nuova oltre Sant'Elia e proseguito con retratti di città, si guarda già al futuro e alle prossime esposizioni. Una volta che riusciremo a definire quale di almeno due strade che stiamo tentando di percorrere, potremo dirvi quale sarà la prossima puntata di una storia. Non sarà un percorso, perché per un percorso deve essere almeno triennale. Non ha senso impostare un percorso per due anni, perché sarebbe un percorso limitato. Non ha senso impostare un percorso, perché sarebbe un percorso, non ha senso impostare un percorso, perché sarebbe un percorso, perché sarebbe un percorso, perché sarebbe un percorso, perché sarebbe un percorso,